FGC realizza stampi ad iniezione di dimensioni medio-grandi per resine termoplastiche. La lunga esperienza acquisita nel settore permette oggi all'azienda di realizzare prodotti personalizzati, capaci di rispondere perfettamente alle esigenze di ogni cliente. Grazie alla collaborazione di uno staff d'eccellenza e all'utilizzo di macchinari d'avanguardia, la società segue ogni cliente dalla progettazione allo sviluppo dell'idea, senza tralasciare la fase di industrializzazione del prodotto. FGC, dal 1980 idee, precisione e qualità.